Salve a tutti, mi chiamo Giorgio Manadia e ho l'ambizione di dirigere questa fabbrica di ceramiche dove vengono prodotte appunto le nostre ceramiche de Simone. Il motivo per cui abbiamo deciso di supportare Magma Festival nella edizione 2016 è legato al fatto che prima di tutto si tratta di un evento pressoché unico nel suo genere in cui vengono appunto valorizzati i lavori dei cortometraggi soprattutto di giovani spesso sconosciuti secondo perché si tratta comunque di un'iniziativa legata alla cultura, all'arte e che sempre più spesso viene messa in secondo piano, se non addirittura in terzo piano e invece noi è proprio per questo che abbiamo deciso di contribuire nel nostro piccolo al buon risultato e alla buona riuscita di questo evento. Ragazzi vi faccio un grande in bocca al lupo!